Jure Kochan, Team Type 1, due anni in Italia con la Carmi Oro, qui in Turchia per recuperare un po' la condizione, visto che hai sofferto di un virus. Sì, prima di andare a Turchia sono stato malato a casa, sono stato 3-4 giorni senza bici e sono qui per allenarmi, per recuperare la forma, per il nostro grande obiettivo, il Giro di California a metà di maggio, poi per le prossime anche a Filadelfia e il Giro di Svizzera. Quindi magari sarà difficile vederti protagonista oggi, che è una tappa movimentata, che addice alle tue caratteristiche, che hai fatto un ottimo terzo posto alle strade bianche, quindi magari nel finale ti vedremo davanti, ma non brillantissimo. Sì, speriamo di fare bene oggi, se non sto bene, se non mi sento bene, mi aiuto a miei compagni, per Calegarin penso che sta bene, è anche veloce, proviamo a fare qualcosa. Grazie e in bocca al lupo. Grazie e in bocca al lupo.